a dimostrazione che del caso di viviana parisi dall'inizio non si è capito nulla c'è questo articolo che viene condiviso il 3 agosto e come vedete parla di corpo della madre già trovato del bambino non si hanno ancora tracce che è quello che poi effettivamente accadrà qualche giorno dopo ricordiamo che nelle prime ore un mezzo dei soccorsi passerà a pochi metri dal traliccio qualcuno dirà che avrebbe dovuto vedere il corpo qualcuno dirà che non l'ha visto e gireranno voci che il corpo invece sarebbe stato trovato in seguito spostato un vero e proprio mistero ma come vedete questo annuncio del 3 agosto riporta esplicitamente riconosciuto il corpo della madre e la mente va a quel operatore dei soccorsi che guardando uno schermo disse subito nelle prime ore lei non voleva buttarsi è sempre rimasto il dubbio che qualcuno viviana l'avesse trovata subito e poi forse per non passare dei guai ha fatto finta di niente e hanno fatto in modo che il corpo venisse ritrovato qualche giorno dopo ehi non dimenticare di iscriverti a questo canale è il metodo è il metodo è il metodo è il metodo